ciao oggi andremo ad aprire un... che andiamo ad aprire oggi Riccardo? che andiamo ad aprire? oggi apriamo questa bellissima confezione con i kit la strategica di lucenza siderale i famosi pre-release qui abbiamo Samuroth questa è la confezione da 10 adesso la apriamo qui abbiamo Typhlosion avremmo dovuto aprirli prima che uscisse lucenza siderale ma purtroppo sono andati un po in ritardo una volta che sono andati in ritardo abbiamo potuto aprire qualche pacchetto prima di lucenza siderale ora però vogliamo farvi vedere anche le promo intanto questo riazionare che abbiamo un po di carta di energia ma questo è un altro discorso sono tutte carte di energia ma va bene allora quindi questo lo richiudiamo abbiamo sì un bel po di carte di energia se io riesco a chiudere dovrebbe essere 450 carte energia quindi resta mettere la parte e adesso andiamo ad aprire la confezione sì di sfida strategica la vuoi aprire tu e ne usciamo due e ne abbiamo uno l'uno guardate che bello Samuroth a me proprio piace Samuroth e allora le promo sono? ci sono quattro promo giusto come sempre sono quattro promo quali sono queste promo? Samuroth Magnezon Magnezon quello lì poi c'è Wildeer che è un pokemon a balanza nuovo e poi abbiamo infine Baskulegion che è un pokemon acqua ora vogliamo far vedere qui dentro quello che c'è guardate un attimo prima volevo fare questo giochetto così per fare vedere che è carino guardate guardate è di alga io ne prendo un altro sempre con di alga ci sono tanto e adesso sto poco ok mentre io ti sposto vuoi leggere quello che c'è all'interno? eh va bene vieni qua è scritto qui e leggi quello che c'è un mazzo da 40 ma facciamo un attimo una cosa adesso tu lo racconti quindi qui dentro c'è un mazzo da 40 carte promo per giocare no aspetta un mazzo da 40 carte pronto per giocare che include un'esclusiva carta promozionale e olografica e tu quale speri ritrovare allora alla fine? Samuroth no Samuroth la vi trovate io tu ti trovi Wildeer e io mi trovi il cervo e io mi trovo Samuroth se ne posso trovare quattro va bene dai quattro buste dell'espansione spade scusa ecco filiale filiale del ggc pokemon una carta coge per il ggc pokemon live apri il suo pacchetto questa confezione e lasciamo le forbici se vuoi e insieme a vedere la c'è dentro ti tagli così ce l'hai fatta? l'abbiamo aperto? si facciamo un altro video un altro giorno? no ce l'abbiamo fatta allora mi raccomando la sorpresa la promo la sorpresa non ve la farò vedere subito perché ve la voglio vedere come sorpresa vediamo un po' ok prima vi faccio vedere i pacchetti guarda qua c'è una cosa? palchia? si qua c'è Samuroth l'alga palchia e deciduali tutte diverse no ne manca una si ci manca la quinta che te è suosione se non sbaglio questo ah guarda se vuoi con le carte questo è dove segnare le carte fai vedere apri 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 un attimo e qui si vedono tutte le si vedono tutte le carte che se uno non lo trovo e le può segnare qua è più corto da solito vabbè ok e la provo oggi è Samuroth Samuroth che sei fortunato guardate che bello lo apro si 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 lo apri se la fai alza rovinarlo si bravissimo 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 molto bravo si facciamo vedere anche il codicino così chi vuole lo può utilizzare ora voglio vedere meglio la promo il primo che arriva lo prende si allora cosa vuoi vedere prima la promo? si vuole che bella ho scritto spadesco di lucenza generale si una passiva una passiva una passiva poi aspetta le prendo tanta energia oscurità intanto faccio vedere pure io ah pure in metallo si ah e poi iniziano le carte non ve le faccio vedere su tutte io le faccio vedere così ma io sono quelli che si viola questa qua è carina damond è rara eh infatti registi ma ci mancano alcune si si e alcune sono doppione ma abitone ma ah questa è l'altra promo che è l'altra che ci deve essere cioè questa è una promo si certo un bel po' di carte ah absole ci mancava absole non l'avamo trovata e saura questa è la grotta normale un paio di saura e il caudino e il caudino lo leggono? si ok chi arriva prima lo prenderà si 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 e io però vi metto in ordine di come io prendo ok io inizio bene ok inizio da gli alga si inizio e il pacchetto il suonale il pacchetto male si ah non importa non importa non importa non importa io vorrei trovare un bel una carta che carta vuoi trovare? bella una carta bella una carta bella qualunque? una tg che dici troviamo una bella carta gold? una carta gold sarebbe bello vediamo che abbiamo oggi mi sento il giornale tg si Psyduck si Tojipi Magma Magmitine Rals Sneasel di Isui Energy Acqua Dewott Omega Selina aspetta aspetta poi vediamo che sorpresa tg tg dai come fai leggi nel futuro che bella che bella che bella che bella gardevoir molto bella e poi l'ifeon ci mancava pure ma è bellissima pure l'ifeon fai vedere l'ifeon è una rara erba bel pacchetto è una mossa giardino di energia ma guarda che bel pacchetto per iniziare un atg di cardevole e l'ifeon bellissima e l'ifeon rara bravo ops non lo spostiamo scusate e io dopo il secondo di pacchia sei partito fortissimo sì lì a me piace molto proprio questo artwork lì sono normale non mi piace mi piace questo artwork facciamo rivedere tutto il pacchetto sì guardate che queste funzioni divi continuano sempre il piacere qua c'è un altro cosicino per voi 1 2 3 4 1 e 2 attenzione non essere troppo fortunato a me anche se è un bel pokemon splendente perché ricordiamo che in giustade siderale ci sono tre pokemon splendenti Auluccia greninja e eitron eitron greenfish di eiswi rolet ma che ah lui è un altro coso diversi il suo pokemon osha what o o questo è ancora una lingua no l'energia metallo di what di what c'è sempre ma il pacchetto di prima allora c'è la tg ah salina allora c'è la tg no no ah chi c'è la tg piano piano no chi è questo ah regi steel quello che c'era nei si si regi steel 220 meno vabbè ok bastami questo ok ora trovo un altro tg un altro tg un altro tg che vuoi trovare? si oggi mi sento il doppio secondo me qua c'è una tg e qualcos'altro vediamo si da quello citer rolet bronzo rafflet energia oscurità elettro elettro di disui occhiali superficiali superficaci bronzer e ora secondo me tg ok ci abbiamo un pokemon no la terza la tecnologia e allora oh 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 ma è la b max? no è un avviastro un avviastro che bella eh no no si cos'è? come si chiama? Archeus no di alga originale viastro super carta cioè io oggi sono un poco fortunato un poco questa è una bellissima carta è una carta caratteristica è un viastro si è una carta caratteristica di 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 questa serie di questa serie si perché sono di alga palchia probabilmente con Samroth quelle più conosciute di questa serie sono di alga palchia e e come si chiama questo qui? eh lui è Veciduai Veciduai sono le più conosciute gran bella carta vabbè io oggi ho avuto un poco di fortuna si effettivamente oggi serve la tua bella dose di fortuna visto che ci siamo fermati per un po' però dobbiamo dire che i pacchetti di pre-release questi kit di sfida strategica sono sempre belli carichi hanno sempre qualcosa come il nostro primo release di colpofusione si lo ricordi? si ma questo da fortuna ti si ha trovato la gold si si guarda uno e due vediamo un po' c'è questo pacchetto non puoi essere che bello che bello non puoi essere efficaci e niente vabbè ci sta o niente reggis molto bello vuoi farvi vedere cosa hai trovato di particolare questo è qua di là bravo ti faccio vedere un attimo si si ciao a tutti ciao alla prossima ciao 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 ciao